Il drink, quello con la pesca, una botta liscia. Un minuto manca. Che è successo? Ma guarda, sinceramente ci sarebbero altri posti dove andare a controllare e non cercare di, come si dice, di mandare via tutta la gente che è venuta qua a lavorare nel bar. Solo quello. E tu cosa ne pensi? Stessa cosa, stessa cosa ne pensi. E qui questi ragazzi? Tu cosa ne pensi? Sto gente qua deve lavorare, non si può continuare così. Adesso anche con la storia dei Deore aperti fino alle 10 per le cene, secondo me è una cosa inutile. In questo periodo qua fino alle 10 come fai ad andare a mangiare? Eh, dici tu, no? Le 10 riserve. E si eh? E si eh? Che sei nervoso? Di nuovo? No? Non è che... Io sono contento di avere tutta questa gente ma paradossalmente è diventata una cosa... una campiona per lei. Scusami Nario che sono aperto. Scusami Nario che sono aperto. E così. Grazie Grazie Shit Grazie a tutti. Grazie a tutti.